Con l'incontro sul tema agli affari delle mafie tenuto al Monastero dei Benedettini lunedì 13 febbraio si è aperto il ciclo dei seminari di Ateneo, territorio, ambiente e mafie, giunto alla decima edizione. Il primo incontro sull'antimafia sociale, il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile, rinviato per allerta meteo lo scorso giovedì, sarà tenuto successivamente con tutta probabilità a chiusura del ciclo di quest'anno. Il tema trattato ieri ha suscitato il vivo interesse di quasi 500 studenti di diversi dipartimenti, che in presenza ma anche online hanno seguito i lavori coordinati dalla professoressa Anna Maria Maugeri. Dopo i saluti della professoressa Rossana Barcellona del professore Gaetano Lallomia, ad introdurre il dibattito è stato il professore Antonio Pioletti, ideatore dei seminari dell'Ateneo Catanese. Quindi è intervenuto il magnifico rettore dell'Università di Catania, il professore Francesco Priolo. Tra i relatori del seminario, Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato e segretario generale della giustizia amministrativa, che ha affrontato l'argomento appalti corruzione e criminalità. Isaia Sales, collegato da Remoto, ha proposto un'interessante analisi sull'organizzazione criminale, ponendo l'accento sul tema le mafie oggi. Livio Ferrante ha fatto un'approfondita d'esamina dell'impatto della presenza mafiosa su concorrenza a commercio e appalti pubblici. Molto seguito anche l'intervento di Nicola Grassi, presidente dell'Associazione Antiestorsione di Catania, che si è avvalso anche della presenza di un testimone vittima del racket mafioso. Ascoltiamo adesso le interviste al rettore dell'Università di Catania, professore Priolo, alla coordinatrice del seminario Maugeri, ad una studentessa presente all'incontro e infine alcuni interventi dei relatori. È la decima edizione di questi seminari contro la mafia e davvero siamo molto lieti come Università di Catania di poterli ospitare. Quest'anno ancora una volta un parterre d'eccellenza, un parterre d'eccezione tra i relatori, per dire no a tutte le mafie. L'Università di Catania è in prima fila, ha sottoscritto dei protocolli di intesa e di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con l'Agenzia per i beni confiscati proprio per collaborare in maniera diretta. Ma ancora il fenomeno va estirpato alla radice e sicuramente Catania passa un periodo estremamente difficile, estremamente complesso, con un alto tasso di criminalità giovanile e ancora una enorme dispersione scolastica. È lì che dobbiamo combattere, è lì che dobbiamo agire e ciascuno deve fare la sua parte. Ci sono molti giovani che partecipano a questi seminari, il che dimostra anche a livello interdisciplinare, perché si tratta di ragazzi e ragazze di tutti i dipartimenti dell'Università, non solo l'interesse ma anche la voglia di esserci e di testimoniare la propria presenza. Mi sembra un dato oggettivamente importante che dimostra quanto questo territorio voglia davvero cambiare e far cambiare la Sicilia intera. L'importanza del tema di oggi nella nostra società è cruciale, perché oggi parliamo dell'infiltrazione della criminalità organizzata in senso ampio nell'ambito dell'economia e quindi vuol dire anche nell'ambito dei gangli vitali della politica, perché attraverso l'economia poi si cerca anche di controllare la politica. E quindi è un tema cruciale perché l'impitazione criminale nell'economia vuol dire anche una distorsione della corretta distribuzione, gestione delle risorse pubbliche, vuol dire compromettere anche un carretto sviluppo delle istituzioni, dello Stato, della democrazia nel nostro paese. Il fenomeno è un fenomeno fondamentale, come denunciato anche dal fatto che tu sia le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, le ultime 2020-2021 non fanno altro che denunciare la continua, anzi il sempre maggiore attenzione della criminalità organizzata non tanto all'attività delinquenziale in sé, ma piuttosto alla gestione di attività imprenditoriali. Anche dopo la pandemia tra l'altro si è registrato un acquirsi del fenomeno perché per le imprese in crisi la criminalità a volte è stata anche la fonte di un'offerta di liquidità per risolvere le problematiche appunto create dalla pandemia. quindi un'ulteriore, la pandemia e la crisi è stata un'ulteriore fonte di causa di ulteriore infiltrazione dalla parte della criminalità organizzata nel mondo dell'economia, cercando di ottenere un ulteriore controllo di attività criminali leciti. Anche a livello sovranazionale lo testimone tra i tanti interventi sovranazionali. Da ultimo, cioè nel maggio del 2022, è stata fatta una nuova proposta di direttiva in materia di strumenti di sequestra e confisca dei beni, proprio perché emerge e si denuncia un'esigenza di una riforma della presente direttiva del 2014 per armonizzare ulteriormente questi strumenti a livello europeo e ottenere una migliore cooperazione nell'applicazione di questi strumenti. Essendendo ad ulteriori fatti specie, ad esempio in materia di reati ambientali, ulteriormente migliorando anche gli strumenti di confisca anche senza condanna. Quindi emerge proprio l'importanza del tema che sarà affrontato sotto diversi punti di vista, a partire dal fenomeno criminale con l'intervento di Saia, a partire dalla problematica dell'infiltrazione nel mondo degli appalti, da un unichere Corradino, Ferrante, che anche ci illustrerà come, quali sono le conseguenze economiche, quali sono, qual è l'impatto economico dell'infiltrazione criminale nel mondo dell'economia. Il senso iscritti, questo testimonia il grande interesse, la grande sensibilità dei giovani verso queste tematiche, questo c'è un buon segno positivo, questa è l'ennesima ripetizione di questo tipo di iniziativa, non ricordo esattamente a quale edizione siamo arrivati, questo dimostra chiaramente l'importanza della sensibilizzazione dei giovani nell'ambito anche della più ampia formazione universitaria, che sotto diversi punti di vista, dal punto di vista giuridico, economico, studi di scienze politiche, a qualunque comunque studi universitario deve formare dei professionisti esperti e pronti anche ad affrontare il mondo professionale nella consapevolezza dei rischi dell'infiltrazione criminale e quindi sensibili alle tematiche della legalità. Mi chiamo Sivan e frequento la facoltà di lingue qua a Catania. Secondo me è importante parlare ai giovani della legalità perché ognuno di noi nella società è importante nel suo piccolo ed è giusto avere speranza nel cambiamento. Sì, mi sono sentita in dover di partecipare perché penso che sembra un argomento futile ma è importante informarsi sulla mafia e sui processi che ci possono essere per cambiare la Sicilia. Sì, mi sono sentita in dover di partecipare il musico lettore che dal suo accolto pienamente il significato, il senso, il dettivo che fa dieci anni hanno messo femminile, ma che è il direttore del disco che è stato un po' da più benunciato perché questa iniziativa è che ha avuto con generosità in interlocutazione delle sue strutture e partecipativamente. E quindi è ovviamente la professoressa Barcellona che è presente secondo la professoressa Simona Laudas e che ha raggiunto a coordinato per tutti i seminari, il coordinatore prezioso del dottor Antonio Fisichella che tiene tra poco, sono 400, un tanto, un testo, un testo, un testo, un testo insomma. Ringrazio tutti. E' un magnifico lettore, è grande la soddisfazione e il piacere di incontrarsi e vedervi presenti in quanto iscritti a corsi di laurea diversi, a dipartimenti diversi, scienze letterarie, economiche, sociologiche, giuridiche. So che ci sono anche studenti di fisica, di chimica, studenti di scuola media, ovviamente rappresentanti di molte associazioni della società civile che sono parte integrante della programmazione del senso, questo finirò brevemente perché in questa mostra dice, perché la finalità del senso di questi seminari è proprio questo, cioè di coniugare la professionalizzazione, un ramo, il sapere, il domani, speriamo, delle professioni, coniugarla con una solida preparazione culturale e compagno, che abbia fondamento le capacità chimiche. Ricordiamoci che, e lo ripeto, che la parola tesis in greco è un'eserata, che è un'eserata, che è un'eserata per un'eserata, che è un'eserata, che è un'eserata. Darsi di di strumenti per capire il mondo in cui viviamo, che vive in frasi di aromatiche, come lo sappiamo, in territorio e la città, per tutto il mondo. Quindi noi in particolare che viviamo nel Mezzogiorno d'Italia, che vive in su quegli anni, rispetto adesso con le altre regioni dell'Italia, è magnifico, non c'era per esempio dei dati della dispersione scolastica, ma un altro dato, per esempio, è che il tempo pieno, la presenza c'è di menzio, delle scuole, dei bambini, qui da noi copre il 10% della popolazione scolastica, in altre regioni il 50%, 10%. E quindi per capire la realtà che viviamo in particolare in questa città, e che studentessero, che studenti di provincia o mondo, che sono i modi dei quali si vedono a distanza nei loro territori. Quindi in sostanza una visione che porti a quella che noi chiamiamo una cittadinanza attiva, cioè a un vivere che sia fondato sull'aspirazione e sulla partecipazione per la giustizia, la giustizia sociale e la leggerla. Abbiamo iniziato nel 2014 con i tempi, e l'inizio fu, nel momento in cui presentammo, non è che ci ha ricordato, Giambattista Città presentammo, a raccoltare articoli che Giambattista Città pubblicava in un'arivista che era pubblicata a quei tempi, la domanda a due teorie di cui mi era città tutta via. Vorrei semplicemente ricordare, rispetto a voi, che ritengono che il rapporto tra mafia e economia è all'inizio della stessa presenza delle mafie della società siciliana e delle altre regioni interessate. Si può quasi dire che l'interesse per l'economia, l'interesse per le imprese, l'interesse per i profitti, l'interesse per il mercato è uno dei tratti identitari dei fenomeni incriminati di tipo mafioso. Non esiste mafia, non si dà mafia se non il legame con il denaro e con il mercato. Noi abbiamo per troppi anni, per troppo tempo, disconosciuto questo rapporto. E ciò lo abbiamo fatto, questa specie di negazionismo dell'interesse economico delle mafie, lo abbiamo fatto perché nel tempo è prevasso da un'interpretazione sbagliata delle mafie. Cioè che le mafie avessero a che fare con la mentalità dei siciliani, con la mentalità dei campani e dei canabresi, e non un rapporto con la politica, con le istituzioni e con le comuni. Ecco, aver negato il rapporto con la politica e le istituzioni è stato grave così come aver negato il rapporto con l'economia. Quindi non è solo negli ultimi anni che la mafia si è fatta impresa. La mafia è, in dall'inizio, un'attività di uso della violenza per raggiungere il potere e per raggiungere la ricchezza. Per concludere su questa parte, il rapporto economia-mafia è un rapporto che c'è fin dall'inizio della presenza delle mafie. Le mafie hanno una vocazione alla ricchezza. Ma rispetto agli imprenditori illegali in passato, rispetto ai criminali in passato, le mafie si stimolano perché non sono violenza solo predatoria. Ma la violenza dei mafiosi è violenza di dominanza, non violenza predatoria. La violenza predatoria è quella che prende la ricchezza altrui e la mobilizza per i propri consumi. un lago o altre persone prendono ad altri e quello che prendono ad altri lo consumano. I mafiosi, invece, sono imprenditori molto diversi perché prendono dal mercato ideale e lo investono sul mercato legale. Gli imprenditori mafiosi sono, comunque, imprenditori di due mondi. Mentre in genere, nella storia, il criminale si occupava di affari illegali e l'imprenditore, corretto, dito, si occupava di affari legali, i mafiosi sono gli unici che contemporaneamente occupano il mercato legale e li investono sul mercato legale. Grazie. 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 Grazie.